questo è il futbol ala madrid ala madrid sarà scarso sarà forza sarà quello sarà sempre DNA Champions guarda cosa c'è qua guarda abbiamo il top play qua questa è una finale mancante ragazzi capito ma anche in Manchester City diciamo la mia seconda squadra eccola qua in Manchester City guarda perché la mia seconda squadra? perché abbattuti per scritti ancora c'è modi c'è karate tanti campioni guarda mamma che qualità ragazzi che football quindi questo è il futbol ma possiamo dire anche del Manchester City this is football this is football ragazzi this is football vediamo qualche asana bai monica 2 a 2 3 a 3 3 6 7 8 9 in due partite qua abbiamo visto dieci gol ragazzi dieci gol ma prima un pochettino qua vediamo qua formazione vediamo formazione la c'è qua guarda 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 questo insomma fece questo lullullino qua insomma ha preso il gol a capo con il difficile pure ragazzi tutti top play Mendy Rudy che sono a Roma vabbè questo insomma tata tata domenica carini ancora caravaglio caramiglia qua gioca sono caramiglia proprio fotte Ghiacross ragazzi che sono a Roma vabbè questo è eterno Valverde che gocci fici Vinicius top play Bellingham o Rodrigo e posso mani c'è Mbappé qua capito chi sono qua insomma che invece un cazzo stasera dice chi sono fotte ragazzi forti Silva top play da tutti top play c'è Grealish chi sono di l'inter che l'inter che l'ha tolto che sono fotte roccioltre grazie Stons questo qua ha uno gulio il nuovo gulio che ha ganni qua Diaz guardiolo guardiolo e Ortega bello portiere ragazzi tutti top play ma cosa dobbiamo parlare tutti top play hai capito non so oggi ero indeciso di metti ma manco del ramarit o la maglia dei mani sessiti capito comunque ripeto calcio livello spaziale per quelli che dici no ma che dobbiamo fare calcio champagne a circa dobbiamo vedere noi con il risultato ragazzi siamo ancora anni luce capito eppure sono convinto una cosa no ma non sono convinto una cosa queste squadre qua come si dice la più forte in delle giplede la più forte della juventus di tevez buffon cosa la più forte mina de minan di rui costa c'è vicino io sono convinto che questo e questo riamma che li battevano capito noi eravamo veramente forti come squadre però ad oggi ragazzi invece non esiste in italia una squadra come riammarit di mani sessiti arsena forse ben monaco ben monaco ero convinto che stasera perdeva perché questo ben monaco quest'anno ha fatto schifo il bare per cui se ci ha dato lezioni di calcio proprio insomma pura lazio ci ha vinto invece questo ben moco zitto zitto fice un pareggio che vinceva addirittura prima perdeva questa capo invece 2 a 1 la rovescio di medaglia con chien e poi ha pareggiato di nuovo la o alla dicevo della fine al re di nuovo cosa o l'arsena 2 a 2 non però convinto che l'arsena ci dava tipo un 3 a 0 secco perché vedendo cioè se uno fa la logica la lazio c'è insomma l'ha umiliato il ben monaco poi vabbè in caso sono forti e ragazzi questo è ripeto comunque io te l'ho detto sia questo è football te l'ho detto sia in spagnolo che in inglese la finale a wembley hanno detto gli esperti di calcio che chi vi passa chi passa da queste quattro di finale vince la coppa ma sulla carta ci potrebbe stare perché questa è perché purtroppo sono incontrate quattro di finale questa è stata una finale mancante questa partita finito 3 a 3 una strepitosa partita una delle più belle parti forse forse sarà l'unica partita delle più belle di quest'anno che abbiamo visto in passato voleva insomma questa mi ricorda tanto a dare perché di club ma quando abbiamo visto la finale argentina francia siamo a quei livelli ragazzi tu giuro che non non ho capito ragazzi non ho capito più niente adesso gioco di tutto tutto ma la mente mi vici malo torcicollo proprio ragazzi ho visto ovviamente riamarire ma i sessiti c'è silva di asfo c'è prima segno ma i sessiti poi segna dies in due minuti in 15 minuti abbiamo visto tre gollo poi il capovolgimento di fronte rodrigo poi praticamente secondo tempo foten cacardiolo ricapovolge sottato poi alla fine valverde all'otto quasi all'ottantesimo veramente una strepitosa partita ma ripeto chi fa la differenza alla fine vero che la differenza fa la qualità in campo alla fine sono l'indepetri che cambiano però c'è da dire per la ci sono anche due color due monumenti come allenatore di anzellotti e di guardiola caccio cimbal caccio sciampagna di qua e caccio sciampagna di l'acqua non c'è il bel gioco qua c'è il caccio sciampagna ed è ancora più superiore del bel gioco capito ripeto peccato ripeto peccato che sta partita si andava in in finale sta partita andava e deve sperimentare sta partita secondo me si decideva ai cacci di rigore guarda e sono convinto che non so per come come c'è dna c'è questa vincevano questi vincevano la quindicesima coppa dei campioni ma chi mi sa che non hanno 14 no 10 14 però mani se siti punta per la seconda ragazzi tutti possiamo dire c'è sempre l'icona perché le finale sono finale no uno può dire può vincere a mio marito io ho strumento la cosa che mi come fanno i miei magagni come a uemblea finale ed è a uemblea quindi una squadra inglese secondo me ci sarà siccome da questa parte ragazzi o ci va l'arsenal o ci va a mani se siti poi dice unici ben monoma e bambino poi ci farà un culo tanto all'arsenal si deve vedere perché secondo me secondo me vada attualmente ora come c'è la mani se siti ria marito e bambino basta io uno si presuppone una semifinale in mani se siti ben monaco perché giocano in casa hanno la storia vengono però un mani se siti forse ci può stare però ragazzi l'arsenal ti può vincere con un ben monaco attenzione quindi ripeto una semifinale mani se siti di arsenal ci potesse anche stare dall'altra parte vedo diciamo a chi passa passa un atletico barcellona quindi ci sta l'atletico barcellona e mani se siti la finale la finale arsenal barcellona no mani se siti però su ria marito ragazzi dna c'è un cazzo da fare guarda che era verso ria marito che nel secondo tempo domani si è sedito ma ci ha fatto più possesso faccio fatto un culo però ragazzi sta squadra qui non muore mai c'è dna c'è un quello che non abbiamo noi juventini capito e sono convinto finendo il mio video che alle che dove aveva visto questa partita si sarà detto tutti dicono si è sentito male ma quando sei che dice quello sì o cico c così non se ne fotte niente è stata questa partita ma lui non significa niente stanno facendo vedere qua i tutorial che da lei che sta muorendola a tipo la che febio l'infarto con questo bel gioco niente allegri non se ne fotte niente però c'è stata dire l'allegriani che ci piacciono allegri ha visto che significa caccio champagne questo questa è la partita di football che tu paghi il biglietto ti vede una bellissima partita ognuno voleva vincere questo partito ragazzi questo noi chiediamo anche in italia capito ma in italia sono da tanti anni che non c'è più caccio champagne capito si può trovare la squadra che in quel momento è aggressiva no in questi anni come caccio buono che abbiamo visto un napoli abbiamo visto la juve di conta abbiamo visto l'inter volendo del gibletto in questi diciamo dieci quindici anni ma poi un'è qua dov'è che virgo niente la verità è questa queste squadre qua fin quando ci esisterà vingeranno sempre loro esempio un giorno vingerà riamma rid un giorno ma si è siti poi barcellona sempre chi si sono forse 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 capiterà forse l'ora del paese c'è in mente che nessuno se la calcola questo non lo so comunque vi saluto comunque riamma ridi ma si è siti arsaba e monaco grazie del football grazie a tutti